Ok, parti pure. Perlo al confine con il Piemonte all'interno della chiesa parrocchiale dedicata al Santissimo Salvatore. Stefania, puoi darci brevemente i dettagli di questa zona? Sì, buonasera a te, grazie anche a tutti quelli che sono qui presenti questa sera. Facciamo un breve viaggio, entriamo nella Valle dell'Is, a Pont Saint-Martin, attraversato il centro del paese. Per un breve tratto percorriamo una strada che è piuttosto sinuosa, per sei chilometri, per arrivare in questo borgo che si chiama Perlo, dove c'è questa chiesa parrocchiale che già avete avuto modo di conoscere tramite quel libro che avevo fatto, quel piccolo volume sul giudizio universale, Arte in quota, tra il Piemonte e la Valle d'Aosta. E all'interno di questa chiesa c'è un museo che è tutto da scoprire, perché ci sono anche qui, come nei vari affreschi dei giudizi universali, ci sono dei legami con la nostra provincia di Vercelli. Come mai Stefania riveli uno spiccato interesse per questi tesori nascosti della Valle d'Aosta? Perché in realtà seguivo già da tempo, quando andavo in vacanza a Cervigna, in estate seguivo dopo il TG regionale della sera, la trasmissione Rai VDA, che si tratta di un programma che dedica delle rubriche molto interessanti, non solo alle zone naturalistiche della Valle d'Aosta, ma anche all'arte. Adesso per fortuna c'è anche una pagina Facebook che permette lo streaming di questi programmi e in questo modo sono riuscita già allora a prendere dei contatti con la signora che è addetta un po' ai beni culturali dell'arte sacra della Valle d'Aosta, che è la signora Bordon, che mi ha risposto con molta gentilezza, ma è indirizzata poi verso la signora Solange Suta, che non è qui purtroppo questa sera, e poi ho avuto poi modo di conoscerla di persona tramite una mia amica di Lilian, che si chiama Nadia, che poi mi hanno accolto calorosamente lì a Perlo, appunto, per farmi fotografare questo museo. E con loro anche in Valle d'Aosta abbiamo una serie di reperti, un po' come al Museo del Duomo di Vercelli, quindi c'è un'altra, diciamo così, tradunione tra la Valle d'Aosta e comunque la nostra zona. Sì, adesso il Museo del Tesoro del Duomo, dico la verità, quello di Aosta devo ancora vederlo, so che sono a conoscenza che ci sono una serie di oggetti che sono stati rinvenuti anche da queste località, quindi oltre alla signora Bordon c'è anche il parroco di Valtournage, che è un sacerdote molto colto, che ha rivelato già in TV dei dettagli molto interessanti sul culto in Valle d'Aosta. Don Paolo ha per esempio raccontato anche più volte in occasione della festa della frazione Brenga di Valtournage all'inizio di agosto la storia di Edith Stein, purtroppo anche della sua agonia nel campo di sterminio di Auschwitz. Sono storie queste che io non avevo mai appreso prima d'ora, quindi anche in Valle d'Aosta ci sono esperti di cultura che possono dare informazioni molto utili un po' sull'arte e anche sulle tradizioni religiose, sui personaggi religiosi della Valle. Ecco, entriamo ora nel dettaglio dei particolari, c'è una croce a stile, poi lanterne da processione e ostensori raggiati. Sì, vi condivido subito le immagini, adesso spero di farcela che non mi butti fuori, comunque, posso dare una controllata, ecco qua, allora prendo un attimo questo file, così potete vedere questa croce, spero si veda bene, ok, la metto in mezzo, quindi è una croce che qui vedete è una croce simile a quella d'altare, ma invece di avere una base è in genere fissata ad un'asta, decorata o dipinta, questa è molto spesso impiegata nelle processioni. Questo tipo di croce si ritrova anche nel museo di Sant'Etienne di Aosta e anche nel museo della parrocchia di Brusson. abbiamo poi, se si vede, ecco qua, uno stensorio raggiato, che sicuramente è quello che maggiormente, se visitate il museo, salta all'occhio, che è simile a uno che viene custodito nella chiesa parrocchiale di Champorchet. Questa croce che avete visto prima proviene dal Piemonte, poi ci sono anche dei reperti esclusivamente valdostani, ad esempio queste lanterne. Dalle fotografie emergono particolari molto brillanti dei reliquiari e sono oggetti molto importanti nella venerazione di San Grato con una processione che si svolge ad Aosta il 7 di settembre di ogni anno. Riguardo a San Grato, tu hai delle foto recenti di una piccola cappella in Val d'Aias. Sì, c'è solo un attimo collegamento con Perloz, ero esattamente da Brusson presso la cappella di San Grato nella frazione extra Pierà e ho visitato il giorno in cui ho concluso proprio il portfoglio sul giudizio universale a Vollon. Qui siamo in tutte frazioni di Brusson, in questo caso. Sono inquadrature un po' particolari perché il giorno prima c'era stata una nebbicata piuttosto intensa, abbondante, per essere appunto il mese di aprile. Per fortuna, perché c'è comunque bisogno di precipitazioni. Una nebbicata che non ha permesso nemmeno di avvicinarsi tanto alla chiesa, che è difficile trovare queste chiesette aperte, diciamo la verità, bisogna prendere gli appuntamenti con parroci, addetti ai lavori. La statua di San Grato è stata fotografata poi anche presso la parrocchia di Brusson, che merita sicuramente una visita, che c'è un'immagine anche molto bella del portale. Adesso ve le faccio vedere. Allora, comincio a condividervi le immagini della chiesetta, che è di qui, dove c'è San Grato, che è questo. Ecco, allora, questa è la chiesetta, adesso qui l'ho fatta con l'iPhone 5, poi c'è questa veduta qui, un po' più da vicino, perché mi piacevano questi scrosci d'acqua, diciamo che aiutavano molto nell'inquadratura, le sono fatte anche qui una particolare, per farvi vedere anche questo telefono, come funziona bene. Ecco, di questa chiesa, di particolare, se la visitate, per chi non conosce ancora la zona, ha questo abside circolare, che è un po' raro, diciamo, in Valle d'Aosta, questo campanile, un po' rossasto, che spicca all'occhio, subito appena entrati, ecco, qui è anche questa, contro sole, sempre un po' a distanza, comunque dicevo, e poi vi faccio vedere, anche questa della porta, se c'è, eccolo qua. Ecco, dicevo, che c'è, la statua di San Gatto, è stata fotografata, anche questo, proprio questo, questa chiesa qui, e c'è questa immagine, molto bella, del portale, che si apre direttamente, sulle montagne, che secondo me, richiama molto, i versetti del profeta Isaia, nella liturgia, della notte di Pasqua, lo leggo solo un attimo, afflitta, percossa dal turbine, sconsolata, ecco, io porgo sullo stibio, le tue pietre, sugli zaffiri, pongo le tue fondamenta, farò di rubini, la tua merlatura, le tue porte, saranno di berilli, tutta la tua cinta, sarà di pietre preziose, sicuramente, su questa tematica, della luce, della teneba, ci sarà poi, una videoproiezione, per la prossima Pasqua. Ecco, sono immagini molto belle, sia questa, che quella con acqua, e quelle del contenuto, nell'opusco, ecco, hai usato qualche Nikon, o qualche altro dispositivo, particolare, per realizzare queste, queste foto, queste immagini? Ecco, per gli interni, solitamente, uso una Nikon di 90, che ha una lente, 35 mm, senza flash, quindi, come se in scarsa luce, ti accendesse, lei stessa, all'improvviso, la macchina stessa, la luce, l'ho provata ancora, all'inizio di giugno, adesso, quindi, presso i musei del Sempione, e poi anche, come conoscete tutti, la fotografia, che è stata premiata, anche per il concorso, di Van Gogh, notte stellata, avevo colto, proprio bene, il cervino sotto le stelle. Il problema principale, in questi musei, come questo di Perlo, sono i riflessi, che sono causati, soprattutto, dal neon. Ecco, per risolvere il più possibile, questo problema, molto spesso, utilizzo un iPhone 12 mini, che non lo uso mai, come telefono, secondo me, è come avere una reflex dietro, innanzitutto, l'opzione ritratto, è davvero eccezionale, va bene anche, per fotografare da vicino, gli oggetti, anche i fiori, se vogliamo, proprio in questi giorni, ho fatto anche le ortensie. Entra in gioco qui, anche la questione comodità, non avere troppo peso, io spesso, volentieri, giro con tre macchine fotografiche, anche a collo, ecco, questo telefono, usato solo come fotocamera, andrebbe bene anche, per i professionisti, quelli veri, perché lo possono, diciamo, tranquillamente utilizzare. Ecco, all'interno del museo di Perlo, ci sono testimonianze, valsesiane, quindi, possiamo dire, che l'abbiamo già accennato, che vi sia una sorta di legame, tra il Piemonte, la nostra provincia di Vercelli, e la valle del Liss, ricordiamo, comunque, che già l'Agnia, e la valle di Cressonale, sono accumulate, dalla tradizione valser. Sì, le condivido subito, faccio vedere le immagini, che adesso abbiamo citato, allora, c'è questo Cristo, che porta la croce, che è questo qui, appunto, qui era già difficile, con questi, con questa inquadratura, che mi sono dovuta avvicinare, il più possibile, e poi all'interno, c'è questo presepe, che secondo me è molto bello, Allora, vi faccio vedere una veduta d'insieme, così, poi ci sono i dettagli, che si possono avvicinare, di questi abiti, questo, poi abbiamo questo qui, dei pastorelli, con gli animali, con le pecore, poi abbiamo un'altra veduta, abbastanza d'insieme, qua, sempre molto difficile, da catturare in maniera nitida, ecco qui un po' di più, col telefono, ecco, sono personaggi, mi hanno detto, proprio in stile Valser, allora, loro l'hanno catalogato, come Alagna, però, la provenienza è dubbia, perché gli abiti, sembrano, proprio essere discesi, dalla Svizzera, non dimentichiamo, che lungo Simplon Pass, ci sono testimonianze, della comunità Valser, adesso, nel lungo, la famosa Stokkalperweg, di cui parlerò, nel mio prossimo fotolibro, che sarà in doppia lingua, anche italiano e tedesco, ecco, qui abbiamo fotografato, anche, una carta gloria, e una patena, ecco, ci vuoi, spiegare qualcosa, appunto, al riguardo, di queste immagini, e il loro significato. Sì, ma allora, tanto condividiamo prima, l'immagine della carta gloria, che si trova dentro questo museo, eccola qui, allora, la carta gloria, per chi non sapesse bene il termine, si intende un trittico di tabelle, solitamente poste dentro una cornice, arrecanti alcune parti della messa, scritte in latino. Questo carta gloria, qui riportato sull'opuscolo, è di provenienza baldostana, e in legno dipinto e dorato. Il sacerdote, grazie a carta gloria, ricorda più semplicemente le formule, da recitare durante le celebrazioni eucaristiche, quando i messali venivano spostati, sui vari lati dell'altare. La carta gloria era particolarmente utilizzata, diffusa nel XV secolo, e a partire poi dal XVI secolo il suo uso è stato abbandonato. L'abbandono definitivo avviene nel 1965 con la riforma liturgica. È interessante notare comunque che al centro c'erano, adesso qui si vede poco, però c'erano solitamente le formule legate al rito dell'offertorio, poi il gloria e il credo, e sugli altri lati i versetti del Salmo 25, con la preghiera per essere purificati. Quindi lavami, Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. Questi sono i versetti che ricorrono attualmente anche nelle celebrazioni quaresimali. E poi sull'altro lato si parla del Vangelo secondo Giovanni, adesso qui non so esattamente quali versetti vengano portati, riportati. La patena invece è questa, qui abbiamo un dettaglio un po' più alato, copre un oggetto liturgico che ha la funzione di contenere l'ostia prima e dopo la consacrazione. La patena copre il calice, adesso vi faccio vedere, dovrei avere anche un'altra immagine un po' più dettagliata. Ecco, questa infatti l'ho fatta con l'anno 90, sono qui per fortuna in una posizione favorevole. Copre il calice, questa che qui vedete, è stata realizzata in argento dorato dal torinese Francesco Ghiotti. Ecco, qui appunto abbiamo anche il nome di uno degli artisti che hanno prodotto questi oggetti sacri, molto belli ed interessanti. Dove si possono reperire le notizie di autori come appunto Francesco Ghiotti? Ma allora, io ho trovato alcune notizie sempre da Valtournance, con le catalogazioni della signora Roberta Bordon, in quanto questo autore, questo Francesco Ghiotti, era già stato autore della decorazione di un calice proprio conservato nella parrocchia di Valtournance. Si trattava di un argentiere di Torino che era stato insignito nel catalogo dell'Università dei Signori Orefici, cioè gioiellieri ed argentieri, del 1786. Ecco, nell'opuscolo si parla anche di un angelo, di un angelo candeliere di origine valsesiana, di calici e di un'apisside. Abbiamo dettagli in merito? Sì, allora faccio vedere anche qua. Allora, prima di parlare vi faccio vedere appunto le immagini. Quindi abbiamo questa e quella un po' più dettagliata, degli sti calici, dell'episside dell'angelo candeliere. Adesso vediamo se ce n'è una anche un po' più particolare. Eccola qui. Questo è l'angelo candeliere. Quindi il termine episside, di solito siamo, come insegnanti di scienze, sono abituata un po' a sentirlo in botanica per indicare un frutto secco che si apre trasversalmente da una fessura. Qui ovviamente siamo in ambito di arte sacra, quindi c'è una funzione simile a quella della patena, ma con lo scopo di conservare le ostie dopo la consacrazione. Viene collocato sull'altare appunto poco prima della consacrazione, una volta consacrate le ostie sono poste sul tabernacolo ed è solitamente realizzato questo materiale in oro e in argento. Quindi può essere costituita sia dal piede che dal coperchio. Uno dei due calici che avete visto, lo ripropongo un attimo. Qua. Allora, si tratta particolarmente... Di quello a sinistra, questo qui, viene dalla Germania. Il primo viene da Torino, poi c'è un altro che viene dalla Germania che opera di Georg Berktold e anche qui il sito della regione Valle d'Aosta ha fornito alcune informazioni a riguardo di quest'orafo tedesco attivo tra il 1678 e il 1686. Nella valle di Gressonheim, Val d'Aias, mi invaltò Nansi, infatti ci sono oggetti di orafi che pare provengano dalla Germania e dalla Svizzera. L'angelo è in marmo policromo e il candeliere è in ottone. Volevo fare ancora solo una piccola precisazione ancora anche per vedere questi liquari molto belli che molti sono conservati appunto nel tesoro del Duomo di Aosta. Nell'ultima parte c'è Sant'Antonio ma non San Bernardo. Questo un po' lascia stupiti in quanto appunto l'iconografia di San Bernardo è sempre spesso fotografata nel contesto religioso valdostano anche con affreschi molto particolari e non solo nella valle del Gran San Bernardo. Tu sei riuscita recentemente anche a immortalarne qualcuno di queste statue? Più affreschi diciamo che statue. La statue è proprio che si trova al colle. Diciamo che ci sono tante raffigurazioni che hanno un filo conduttore in comune. Ecco appunto sempre in Val d'Aias scendendo dal sentiero della piccola cappella dedicata a Sant'Anna i ponti romani in realtà sono ponti medievali di Isollaz e nei giorni di Pasquetta. C'è stato un itinerario molto bello col vista sul Montavic che ha un significato anche storico e religioso. Quindi questa strada facendo si ritrova davanti alla chiesa dedicata ai Santi Giacomo Maggiore, Erasmo e Chiaro. Adesso vi faccio vedere anche qui le foto che ho fatto. che sono queste qua. Allora, solo un attimo. Ecco qua. Ecco. Allora. Risale questa chiesetta tra il 1856 e il 1859. Tra questi santi citati, San Chiaro viene considerato il patrono del villaggio in quanto in Patuà questo nome indica la luce e la luminosità durante la festa patronale del 2 gennaio viene invocato per far ritrovare la luce agli occhi. La fresco riporta la figura di San Bernardo che tiene in catena il diavolo e il vescovo di San Erasmo durante il materio e San Giacomo in veste di pellegrino. C'è anche la Madonna di Europa che è ubicata all'interno purtroppo in quel giorno non è stato possibile visitarla e l'immagine della Vergine è anche collegata a questo sentiero dove sorge la cappella che conduce da Vadaissima, Fontenmoarche fino a Europa. C'è la rappresentazione del diavolo anche in catene. Ecco. Rappresentato a forma qui appunto di Drago qualcuno dice che è un gatto ma è brutto paragonare i gatti a queste cose e si ritiene che San Bernardo da Mentone che è più noto come San Bernardo da Osta avesse proprio questo il potere di scacciare il demonio. Ce n'è un'altra di fotografie ancora più da vicino ecco con la Madonna Nera. Ecco, chiediamo di San Bernardo in quanto la devozione accomuna non solo le varie zone all'interno della Valle d'Osta ma si estende anche oltre il confine in Italia e in Svizzera. Infatti è non solo il Gran San Bernardo Pass ma anche il lungo Simplon Pass con l'ospizio Sempione gestito dai canonici del Gran San Bernardo che è un luogo di pace e di spiritualità. Con la copertina di questo pusco invece raffigura una bellissima fotografia all'interno della chiesa di Perlò. Ecco, puoi descriverla? Assolutamente. Allora intanto la faccio vedere a scramopieno la fotografia della chiesetta che è questa qui. Internamente poi si può avvicinare tranquillamente girarla appunto sopra notazione si possono osservare l'altare maggiore che è in marmo risale al 1786 la balaustra e il pulpito che sono in nocetta intagliato. Ci saranno come vedrete poi avete l'occasione sicuramente di visitarla i pannelli con le statue di Sant'Orso di San Grato di San Giovanni Battista San Giovanni Evangelista ovviamente il Santissimo Salvatore cui è dedicato alla chiesa che è posizionato al centro. Poi c'è un reliquiario che contiene una spina che dovrebbe essere riferita alla corona di Gesù portata alla chiesa all'epoca delle crociate. Ecco Stefania quindi ha realizzato questo puscolo che ora è stato trasformato in un ebook già disponibile su Amazon al costo di un euro e descrivici come hai portato a termine questa idea e come hai deciso di realizzare questo puscolo. Sì allora lo puscolo è questo qui intanto adesso qui ve lo vedete a schermo pieno allora c'è una piccola introduzione con la spiegazione di quello che vi è stato detto ovviamente museo molto piccolo è partito tutto fotografando il bellissimo giudizio universale sulla facciata della chiesa di Perlo questo paese l'ho scoperto per caso nel 2020 salendo verso i sim e ho deciso poi di far ritorno lo scorso febbraio al termine della sfilata del carnevale di Pons San Marten in quanto persisteva una luce favorevole da accogliere con calma tutti i dettagli degli affreschi parlando poi con Nadia è venuta fuori l'opportunità di far ritorno a Perlo previo appuntamento con la signora Solange per ammirare l'interno e fotografare il museo l'opuscolo ha lo scopo ovviamente di promozione territoriale in quanto come avete visto ci sono delle zone segrete della valle d'Aosta troppo spesso ignorate e che meritano veramente di essere conosciute ecco i costi di stampa sono eccessivi da sostenere a carico di un singolo quindi nemmeno con i software fototaxi si riesce a stampare una brochure come questa diciamo che con Kindle Creator diviene possibile anche se tuttavia per dare più risalto alle immagini si tende a rimpicciolire il testo e quindi poi occorre manualmente con le dita ingrandire sui vari dispositivi portatili ecco poi vabbè chiaramente si è stato dato anche l'opportunità a chi non usufruisce di questi mezzi di inviare un puscolo in pdf su whatsapp in modo tale che poi le persone addette ai lavori a perlo stampino le copie necessarie e insomma abbiamo avuto un ottimo rapporto di amicizia ho ringraziato tante volte queste persone e così possono diffondere in modo agevole questo puscolo tra i loro contatti ecco a perlo comunque ci sono altri luoghi di culto naturalistici da visitare tu ci sei già andata o conti di andato in futuro sì esatto allora abbiamo il santuario esattamente di noto d'Andalagard che presenta una facciata molto elegante con un portico sostenuto da quattro colonne in pietra e all'interno c'è la statua della Vergine in trono col bambino che risale nel XVI secolo che è posto al centro dell'altare maggiore poi c'è mi dicono che ci sia un museo a cielo aperto dei CEMP mi sembra che si pronunci che hanno opere d'arte e anche sculture tra le case che è raggiungibile con un sentiero noi in quei giorni non ho fatto tempo ad andare anche perché le previsioni meteoro sconsigliavano spero di poter fare tutto in futuro più avanti con la dovuta calma ecco Stefania per te e per la cura che hai per i dettagli e che racconti sui social nel tuo blog e nel tuo sito web diviene importante anche la catalogazione quale metodo utilizzi per catalogare queste opere d'arte sono sempre molto ben descritte anche nei minimi particolari grazie sì allora quando ho in mente mi propongono un reportage sul museo si esco d'obbligo con un taccuino per prendere gli appunti sui soggetti fotografati cerco ovviamente di leggere sempre prima di partire l'argomento inerente al reportage per già farmi un'idea di cosa fotografare nel dettaglio annotando sul taccuino le didascalie fotografate o ricopiate si riesce in maniera molto più precisa del resto ad annotarsi a riordinare i file se scrivere nel blog anche sull'applicazione Musei ed è quella dei beni culturali e creo proprio una rubrica sul mio blog che si chiama Invisita A e poi ovviamente varia a seconda del tema trattato ecco immagino che anche questa una terza la affricchi nelle scienze naturali certo assolutamente con il bonus docente ho acquistato diversi atlanti di zoologia specifici per pesci uccelli rettili mi piace tantissimo visitare gli acquari anche i rettilari dove è possibile apprendere sempre di più sulle varie specie del fantastico mondo animale è un arricchimento culturale in ogni caso in ogni ambito anche per me stessa il mio lavoro è ovviamente quello di insegnare le scienze naturali a scuola il mio obiettivo ora rimane più che mai quello di farle amare come del resto io ho imparato ad amarle proprio sui banchi del mio caro e vecchio Rosa Stampa sto invecchiando anch'io ormai di esperienza non fatta però ci sono ancora molte cose che bisogna imparare e questa metodologia la applichi anche ai tuoi studenti si ci provo certo come dicevo prima maggior ragione da settembre è dovere ed obbligo metterla a punto anche a conclusione del programma di questo anno scolastico proposto ancora nelle classi del bienio una lista di luoghi ed itinerari scientifico-culturali da visitare nel corso delle vacanze estive anche in giornata perché i ragazzi devono imparare a vedere ad apprezzare le meraviglie della natura perché no anche unendole all'arte qualcuno ha preso appunti speriamo di aver suscitato interesse e al giorno d'oggi i ragazzi passano troppo tempo in casa presi dal cattivo uso dei social media passano il tempo a giocare con le playstation con questi giochi vari i ragazzi hanno bisogno di uscire di esplorare di arricchire la loro cultura quindi trovo personalmente più utile un suggerimento di questo tipo di andare a vedere qualcosa rispetto ai tradizionali compiti per le vacanze poi la mia materia molto spesso è terminale quindi si ferma nel bienio al professionale addirittura all'Ipsia sono tre anni che sono stata lì si ferma in prima quindi adesso con la scuola che ho ritrovato per fortuna vedremo quali classi mi saranno assegnate in alcuni indirizzi scienze naturali rimane per tutta la durata del corso con tematiche diverse per ogni anno ci sono tante cose che si possono raccontare ecco tu prima parlavi di Musei The App e ritroviamo quindi anche Perlo su questa applicazione che hai citato certo esattamente perché come dicevo prima non ci sono solo in Italia città stupende d'arte come Venezia Firenze Roma ma ci sono anche piccole località incantevoli lo dico sempre del resto le cose piccole semplici sono quelle che alla fine sono le più belle e diventano grandi questa applicazione è scaricabile sia dai dispositivi Android che da Apple Store ecco concludiamo questa intervista di questa sera con una consueto domanda Stefania è un vulcano di idee attivissimo per restare in ambito delle scienze naturali appunto quindi si parlava di vulcano ecco avrai già sicuramente in mente qualcosa ecco iniziative per i prossimi mesi una addirittura l'hai già svelata per la Pasqua del 2024 sì io sto lavorando e sono finito praticamente il fotolibro prossimo dal titolo sulle tracce del barone Stoccalper che svela questa volta una novità mi tratta di tutta la zona del Sempione quindi della Dogana di Gondo a Simplon Pass con le foto dei vari complessi museali la novità è che sarà in doppia lingua quindi in italiano e in tedesco per facilitare la lettura e la diffusione anche nella Svizzera tedesca Simplondorf parlano poco in italiano spero che vada tutto bene così se ritrovo anche il liceo linguistico la mia ex professoressa di tedesco non mi sgriderà mi ha fatto un po' l'esame di maturità conto di presentare questo volume adesso penso nelle vacanze di Natale faremo una poco prima di Natale per scambiarci gli auguri faremo un ritrovo qui e parleremo di questo libro così anche chi viene da via è avvantaggiato nel seguire la presentazione abbiamo poi in mente con il canile gattile di Borgo Vercelli una mostra fotografica magari appunto Mountain View a scopo di raccolta fondi è un'idea che è stata proposta anche ad Amico Randaggio anche al gattile di Santià vediamo con la signora Rita della convenienza che ho ringraziato fin da ora di organizzare perché lei ci metterebbe a disposizione gratis un suo locale qui a Vercelli in via Paggi avevo già del resto intrapreso un'iniziativa di beneficenza che era molto ben riuscita a Crescentino grazie alla presentazione del libro sul Gran San Bernardo avevo devoluto una somma di 150 euro alla Lilt con l'aiuto prezioso della professoressa Bosso Paola Bosso che è una docente di lettere presso l'istituto alberghiero di Trino abbiamo lavorato a lungo anche con la signora Angelica Malinverni che come penso già qualcuno sappia è la mamma di Caterina ad un evento sulla disabilità in presenza e ci hanno dato il via libera da Valturnanche la data la sappiamo già il 27 agosto alle ore 17 in piazzetta della chiesa e appunto la signora racconterà della sua esperienza di vita con questa dolce fanciulla e parlerà di come nonostante una grave disabilità ci sia molta gioia di vivere e riesce sempre a cogliere gli aspetti più belli che la vita ci regala si parlava poi appunto abbiamo citato prima di una videoproiezione dedicata alla liturgia della notte a Pasqua perché ho tratto ispirazione da fotografie delle montagne al tramonto dalla mia vicina al settimo piano e magari chissà adesso se riesco a fare qualche giorno in agosto a Vienna una bella proiezione con tutte le musiche del concerto del primo gennaio così questa volta batterete voi le mani con la marcia radeschi ecco abbiamo concluso se ci sono degli così degli ospiti se qualcuno vuole fare qualche domanda qualche così qualche precisazione qualche commento appunto su quanto hai fatto a vedere le immagini di Stefania spero sia stata gradita la cosa sì Stefania grazie perché sono sempre interessantissime le tue presentazioni tra l'altro ho sentito di questo autore Ghiotti e non so se lo sai ma io abito a Marcallo e Ghiotti è una famiglia è una delle famiglie diciamo feudatarie no? qui che avevano il feudo di Marcallo probabilmente sono discendenti di questa famiglia eh infatti ho pensato quando ho sentito aspetta hai detto Francesco non sì Francesco Ghiotti esatto ecco Francesco Ghiotti e appunto no qua così Francesco non me lo ricordo però c'è proprio tutta la famiglia Ghiotti con una villa che è Villa Ghiotti che adesso è diventata sede del comune perché è stata acceduta al comune ed è diventata sede comunale quindi anche qui questi Ghiotti erano effettivamente famosi diciamo no? che avessero anche belleità artistiche non lo sapevo qui anch'io per me sono cose nuove perché comunque ho dovuto anche documentarmi su questi cataloghi online che sono stati messi a disposizione dai beni culturali della diocesi di Aosta sì sì certamente certo comunque complimenti ancora mi è piaciuto molto e ovviamente parteciperemo anche alle prossime presentazioni che farai perché ci sempre lasci sempre degli spunti molto interessanti adesso quando andremo su a Gressonei ci fermeremo quest'estate siamo a Gressonei dal 7 al 21 di agosto sicuramente questa volta mi fermerò per l'os a guardare un po' quello che vedo sempre passando diciamo che io ho il numero di telefono di questa signora quindi chi vuole puoi prenotare una visita perché la chiesa è aperta solo la mattina alle 9 e mezza per la domenica perché i sacerdoti sono pochi quindi non riescono a dire a tenere aperto a lungo anche tutte queste piccole chiesette però previo appuntamento io ho il numero di questa signora se ti interessa poi concordare una visita te lo posso passare caspita sicuramente guarda in salita o in discesa se il nostro piccolo fiore non fa non fa dannare possiamo certamente fermarci io devo al momento era molto interessato al momento era molto interessato ecco è un figlio acculturato lui che bello che sei anche noi oggi mi ha fatto la risa di controllo anche Jolie deve venire se vado a fare le terme a San Ben San deve venire anche lei questa volta sì ma anche Fiore Fiore viene sempre con noi quindi e tra l'altro mi piace tantissimo quando io sono al pc come adesso mi piace tantissimo restare qua coccolato ai miei piedi da ascoltare poi non capirà niente però insomma nel suo interesse ce lo mette per gli occhi ha fatto il suo disastro è venuta la veterinaria però l'ha trovata bene per cui ha detto che l'ha dato il via libera per viaggiare con le dovute accortezze comunque se andiamo proveremo l'importante è che le terme riaprano prima cosa sì sì certo lo so che anche Filippo è interessato molto a queste parti storiche vedo tutti i suoi post sì Filippo è proprio molto interessato tra l'altro adesso mi ha chiesto un signore che lavora a Radio Magenta con una rubrica di storie mi ha chiesto se può fare adesso è un articolo però un po' da consulente sugli articoli sugli articoli che vorrebbe di cui vorrebbero parlare a Radio Magenta quindi Filippo è tutto felice di questa cosa quindi è molto preso dalla parte storica l'importante che dicevamo prima di stimolare nei giovani la cultura la voglia di apprendere e lui ma per fortuna è uno di questi sì ecco Filippo sì per fortuna non posso lamentarmi non posso dire che mi lamento perché i giochetti eccetera col telefono cose del genere perché il suo sport preferito è guardare i canali di storie quindi di questo non mi posso lamentare molto bella è rara ormai eh sì se anche poi magari ci si possa anche trovare poi prossimamente anche se viene in Valle d'Aosta magari possiamo combinare certo mi farbbe piacere un sacco magari da cicerone per qualche posto che io ancora non conosco sicuramente lo apprezzerò sicuramente lo apprezzerò perché è sicuramente brava a divulgare che penso che qualunque posto sia bello se lo descrivi tu anche per me perché sono cose sono posti questi che io non sapevo neanche che esistessero anche giudizi universali vari a Bollona questo di qui di Perloz i Sim li ho scoperti tutti così per andare verso i mercatini estivi che mi avevano chiamato per fare un breve reportage ai Sim ho visto tutte queste cose passando proprio in trance ma anche sbagliando strada eh proprio sì 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 certo sì sì noi dai Sim da Gabi da ci passiamo sempre e pur che dice non non sapevo niente di queste cose che hai raccontato ma anche da Ponte la storia del Carnevale di Ponte era stata bellissima mi fate conto di ritornare l'anno prossimo se venite anche voi beh sicuramente il problema nostro è sempre che il Carnevale Ambrosiano è diverso dal vostro romano quindi i giorni in cui siamo a casa sono sempre diversi dai vostri però si può pensare di prendere un giorno di permesso di corrispondenza appunto del vostro Carnevale per riuscire a venire il tuo Ponte a vedere sì 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 sicuramente anche quello del Sempione non sapevo nulla di queste notizie che risalevano all'epoca di Napoleone della strada antica e quindi sono stata contenta che poi abbiano scelto me a chiamarmi per fare questi reportage ecco aspetta certo è un bel orgoglio sì 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 infatti complimenti ancora vedi che è qua guarda non va sta qua vicino a me vedi che si è addormentata in camera della nonna che oggi era un po' arrabbiata che l'abbiamo messo l'antipulci c'era la veterinaria quindi si è un po' di menata oggi ha fatto un po' tribolare dobbiamo ancora andare a fare il vaccino ma andiamo prima di portarlo al mare perché lui va anche al mare il mare va in montagna quindi prima del mare andiamo a fare il vaccino bravo bel coniglietto è qua è qua vedi non si schioda è qua di fianco a me ciao fiore ma bello la birba piermario ce l'hai lì o? si è vicino a mia mamma che dorme ah dorme bu eh si diciamo che adesso praticamente tutto il tempo che fa caldo non passa a dormire mangiare ma vai vecchiotta 15 anni belli loro ecco se riesco a farlo vedere birba birba è la mascotte della piattaforma ovviamente assumiamo anche fiore a questo punto eh si c'è fiore come c'è sempre non vedo birba non si vede dov'è dov'è piccina eccola 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 stava facendo la toilette ciao piccolina eccoci io sono imbranata per quello che non no ma sta tranquillo figura eccola lì eccola lì ecco ecco le mascotte presentiamo le mascotte quindi birba e fiore che è stato assunto questa sera sono le mascotte di Stefania Grasso fotografia bella lei è bello lui eh sì sono tutti belli c'è i gattini che poi lei ormai è ecco lì ok bene allora grazie grazie a tutti quelli che sono intervenuti grazie a te grazie tantissimo grazie anche a Roberto e Erika che mi fanno da trasporto ci mancherebbe sempre un piacere almeno ti diamo una mano a preparare anche questo tipo la percentuale vabbè dai non esagerare si fa con piacere grazie buona serata buona serata a tutti ciao Stefi buona serata buona serata buona serata ciao ciao